Ciao a tutti e benvenuti al mio dolce canale. Oggi un nuovo video, un video di rilassamento. Mi raccomando, accomodatevi, rilassatevi, riposatevi, ascoltatevi, come dico sempre. Oggi voglio fare una nuova tipologia di video di rilassamento, un video con l'acqua, con i bicchieri d'acqua, con questi bicchieri, magari qualche melodia. Il bicchieri e l'acqua. E vediamolo, riempiamo i bicchieri con l'acqua. Il bicchiolo con l'acqua. Il bicchiolo con l'acqua. Il bicchiolo con l'acqua. Grazie a tutti. Mi sta cascando anche tutta l'acqua, ma non importa, io spero che riuscirete a rilassarvi. Fatemi sapere se questa tipologia di video può piacervi. Di solito l'acqua non scorrere nell'acqua è fonte di rilassamento, quindi ho pensato di usarla come relax. Fatemi, ditemi se che cosa può piacervi. Vedete se questo video io chiedo scusa per i rumori di sottofondo, sentirete sicuramente un abbaglio di cani, ma non è colpa mia, insomma dovrei non fare video. E oltre all'acqua, l'acqua ovviamente se non è utile, come dicevo, solo guardarla travasare, anche se il sangue casca, travasata da una parte all'altra, rilassa da questo senso, e quindi ho pensato ovviamente, ho fatto cascare una lettrata qui, una lettrata di acqua e quindi vedetemi se questa tipologia di video può piacervi, può interessarvi, voi lo sapete, io chiedo sempre a voi, vi chiedo sempre se i miei video vi possono piacere, se li trovate interessanti, se vi fanno rilassare, perché poi la cosa fondamentale è che i miei video vi rilassino, ho pensato all'acqua, vi ripeto, perché so che l'acqua rilassa tanto, ma veramente tanto, e quindi il travaso dell'acqua, proprio il bicchiere dell'acqua, rende insomma il tutto un po' più rilassante, spero non noioso. insomma, ditemi se questo video vi sia piaciuto, se preferite questa tipologia di video attraverso l'acqua, ovviamente cercherò di fare anche video un po' diversi, non solo con l'acqua, di rilassarvi anche diversamente, io dopo state mi sono buttata una quinta lata di acqua addosso, almeno sto più fresca, perché fa un caldo assurdo ragazzi, ma veramente un caldo assurdo. vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, mi raccomando commentate, iscrivetevi se questo video vi è piaciuto, se vi è rilassato, se avete un po' scaricato il vostro stress attraverso questo video, io vi saluto, vi ringrazio, vi do un grosso bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale e ditemi sempre, sempre, sempre che tipologia di video volete vedere e se i miei video vi piacciono oppure no, i miei video sono per voi come vi ripeto sempre e quindi essendo per voi, ditemi quello volete, un bacio, ciao